Luce e ombre nel monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sul contagio da Covid in Friuli, Venezia e Giulia. Negli ultimi sette giorni sono stati totalizzati 4.216 casi con un incremento del 10,7% rispetto ai sette giorni precedenti, un incremento inferiore a quello registrato la settimana scorsa quando era stato del 16,9%. L'indice RT scende a 1,09 da 1,18 e cala anche l'incidenza per 100.000 abitanti, da 346 a 306,4. Se l'occupazione delle terapie intensive resta stabile al 14%, aumenta quella dell'area medica, salendo dal 18 al 23%, dati che saranno certificati domani dalla cabina di regia del Ministero della Salute che sancirà per i Friuli, Venezia e Giulia la prosecuzione della zona gialla. Il numero dei pazienti accolti in ospedale è cresciuto anche nelle ultime 24 ore in regione. In terapia intensiva sono 26 i malati di Covid, due più di ieri. Negli altri reparti sono 294, 5 in più. In Friuli, Venezia e Giulia si registrano 770 nuovi casi, emersi grazie a 28.499 tamponi e test, portando la percentuale di positività al 2,70%. I morti sono complessivamente 3.997, con 7 nuove vittime. Un 91enne triestino, una 93enne e un 76enne di Cordenons, una 88enne di Pordenone, un 84enne di Travesi e un 60enne di Gemmona, tutti deceduti in ospedale e una 92enne di Muggia aspirata in casa di riposo.